Vengo il mio capitano! Siete cojone! Venga il rito! Vengo! Vengo! Siete qui! Vengo! Vieni a fare il mattino! Vieni a fare il mattino! C***o! Vieni a fare il mattino! 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 Non lo so! Ok! A tutti! Io le faccio di avere il mattino! Vieni a fare il mattino! Sì! Vieni a vedere! Questa è scala, questa è scala, ma si ingerga il giugno. Ma senti, guardate l'energia quando è mia. Non è mia. Non è mia, non è mia. Ah, ecco la stagione. Ma di qua ma non è riconvocato tu? Si! Mi hai detto di si? No, io non ho detto di sì. Ma andrà contro la piazza. Cazzo vuoi o scemo? Rizzi! Cosa fai stasera? Lavoro? Lavorare eh? Non posso dire. Perché sei un pagliaccio. Oh oh! Ma è f*****o. Ma è f*****o. Il calcio di neve! Ioc***o di neve! Borsa col tuo eando! Vai, 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 vai. Non è non è partita. Non è mai fati, ma. Non è stai lasciando compagnon. Non è la mia figata. Ha f*****o. Non so se è f*****o. Hai una speccana che il Marocco... Ah, sta' z*****o. Miocca! Il Marocco c'è l'acqua, di ego. Minati arabi. Guardatevi il mio capitano. Un capitano! Sì! È un capitano! Per essere un capitano... Chers! Fai, che! ... No, 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 no. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 . Sì. 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 Chiara. Sì. 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 Giornamento. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.